ok mani mi raccomando e sbarra bilanciere vogatore lo tieni così damper ok mi metto qui vi do fastidio ragazzi 5 4 3 2 1 ok 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 allungati bene Ale bravo oh Gab se dopo mi esce dall'inquadratura il bilanciere quando lo droppa me lo rimettite lì vai Ale eh ok 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 1 2 vai più su 3 4 5 6 7 8 no no più su più su 9 dai su 10 5 Ale eh 1 2 3 non camminare 4 5 ok vai è già zerato avvicini a te il coso grazie usa bene le gambe Ale allungati tutto tira meno di braccio più di gamba allungati allungati 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 9 7 7 8 8 9 10 9 10 11 11 12 12 13 15 11 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 18 20 20 21 22 23 25 23 25 25 grazie dai Ale che siamo a un fondo ora ora qui puoi un po' accelerare se ce n'hai dai tutto ora allungati bene sempre però allungati dai che siamo a un fondo Ale si è buonissimo vai 6 e 30 ora dai accelera su Ale dai spingi di più Ale dai gli ultimi 100 metri su bravissimo dai dai a modo su queste pulate falle bene tutte mi raccomando 1 2 3 4 5 vai su 6 7 8 9 e 10 vai subito 5 thruster non passeggiare incastra bene 1 2 3 4 incastra bene 5 ok 4 e 47 si 7 7 e 48 6 6 6 6 8 9 9 10 11 12 14 15 15 15 15 17 18 19